e prossima mappa mercurì joey mercurì otto un concetto punto il bisunto che gioco cazzo punto il bisunto ma è andato qualcosa non ci sono punto il bisunto che palla punto il bisunto e melina 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 la pelata come la chiamavano non mi ricordo ma bastava che ci mettevi in casa davanti e faceva la carmelina a me mi faceva rida quando entravano i cosi dai dadley boys ah si e faceva il mutuo del bergamasco il bergamasco il mutuo del bergamasco che sbagliava la voce era bello anche come si chiama su che poi c'era anche il fratello lì spike e faceva le cazzo è perché masco 2 la l'emunizione e poi sono fratelli io non abbia anche una è appunto e se tu ci pensi se tu ci pensi quello c'è quello bianco grosso somigliava a Mirko no faccia caso ma sono mia più a me di averli corti senza barca eh sì che mutuo che mutuo c'è gente là in fondo mi acchia in vista name sono messo qua sopra ho sparato due colpi ho sparato sparato due colpi sta facendo il giro da dietro sta facendo il giro da dietro sta facendo il giro da dietro giro dietro Guarda lì qua stanno facendo... Giù da te l'asta stanno facendo Anche quello l'ha visto Batanga, ho ucciso Batanga Batanga con la mutanda Sì, ho preso una 96 di danno io Ma che cazzo? Ho sto fumo Oh è sto fumo, porco dio non si vede un cazzo Ma è che se gli spado non morono? Guarda, guarda, spado e non morono Nooo Ma è bello che ti spado Vabbè c'è il primo preso Vaffanculo, ah, porco dio Ma ti infichiamo, faccio stare per me All'attacco nemmico Ah... Stai avanti di generale con la voce Oh perché la mia? Ah gizu... No, dove? Ah... È mortato No, mi si rompe la finestra No, mi sapevo sbagliato Dove arrivano loro? E' arrivato a tutt'altra parte Che sto a fare io? Sto a puntare le finestre io Con la finestra sbagliata stavo puntando No, mi sciottano Che è sempre così Eh, ma ho visto Infatti aveva messo il puntino uguale Eh, sì, perché ho visto là Ho visto, ho il mitra pesante in mano Cioè non ho quello lì giusto Quello giusto giusto Tanto stanno sparando anche a me Non posso muovermi Non posso muovermi, mi dice Ho bisogno di aiuto Oh, ah no, è leato quello Sono preoccupato da niente Oh, no, no Una cosa, mi sarebbe stato morto Oh, no, no Oh, no, no E' una macchina normale, sì? Pedro Sista Sto ucciso Pedro Sista Faceva parte di team questo, sicuro Oh, no, no Ucciso Occhio che ce ne sono due Che stanno facendo il giro da dietro Giro dietro Dietro Perché non capisco Dietro E beh, se si arriva dentro qua Mi disegno Ah, noi siamo su A Stavo dietro Baker Siamo su A Oh, ma che è questo lag? Ma fa il culo, ma Ma anche a me me lo dà Fa il culo mi ha preso questo Anche a me lo dà Ma non si capisce perché La connessione fa schif Cioè la connessione I server che fanno schif Ma questa è una spawn d'acqua sotto Il mondo Ah, ok Hanno già messo le barricate alle finestre qua Va bene, va bene Molto meglio Oddio, sfondano tutto Stanno a sfondare il mondo qui Qualcuno ha aperto la finestra qua Mmm Arrivando da dietro Adivano Non c'è miei munizioni Non c'è miei munizioni Stai Fai di giubbo No, 40 Oh, però sei diventato bravino Eh sì, ha tutto abitudine Ma per me è anche biscottino Se si impara a giocare ce la fa Chi è biscottino? È amico di Giulio Amico mio, amico mio Fica a pagare No, biscotto che è quello che ha 50 e passa di anni Non so manco come cazzo fa ancora a giocare Allora per passione Continua a giocare E' un pazzo che giuro Che è matto Ah, Claudio è matto Munizioni Non vedo nessuno qua E' matto Sì, vabbè Ma che corpo le sciottano Io non so manco dove sono Ah, sono proprio qua sotto Sono proprio qua sotto Eccoli, ecco Ma può essere che salgono su Non butto la fumogione apposta Eccoli, ecco Sì Ecco delle munizioni Grazie mille 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 e si salisse Io fa tutto assist ho fatto Ho solo assist ho fatto Va a fare in culo a te il Panzerbush che fa spagare la rapida Porca madonna quanti cazzo sono livello 3 quel c'è l'hai dietro c'è l'hai dietro giulio Morto giulio Eh ma hai animato con davanti questi Nessuno sa accorto di niente Eh si qua nessuno sa accorto Eh questo col Panzerbush decide Cioè ma come cazzo stavo messi Col Panzerbush ammazza Ok c'è uno sotto, occhia che c'è uno sotto Ah sono tutti sopra, sono tutti sopra Sono due sopra e uno sotto C'è l'hai dietro c'è l'hai dietro Eh si è morto giulio No no quello l'ho fatto fuori Quello l'ho fatto fuori E poi l'altra che mi ha fatto fuori Ma dove cazzo sono spawnato io scusa? Nooo Spawno sul punto della mappa Diverso da dove ero prima Ero su B prima io si No Ah hanno preso allora Ah no hanno conquistato e hanno cambiato No hanno conquistato e hanno cambiato obiettivi Eh appunto Infatti dicevo io Buh Non capisco Mi dava che Era ancora su A Dicevo Buh Non lo so Ma che cazzo Ma che cazzo Ah da lì va da lì sta scendendo giù quello 3 3 Affanculo Vai livello 5 con questa arma Ma posso fare tutta l'arma nuova di Z Ce n'è uno lì 30 Ma che cazzo è male Ma che cazzo è male Guarda guarda stanno a scendendo guarda di qua Guardalo là in fondo Guardalo là in fondo Guardalo là in fondo quello E' abbassato E' abbassato E' abbassato 112 Preso in testa Appa Questo è amico di MRK Guarda quanti ne stanno a scendendo Stanno tutti la Stanno tutti la Giù questi Questo ti spara Con non so con che cazzo di arma E ti piglia no? E ti toglie di far la vita Due golvi no? Cazzo è Mi metto qua su A e sparo così Lo faccio prima Poi posso nebbia lo stesso Duecento e trenta di latenza Possibile Ma io su due a trenta di latenza figa Ma io su due a trenta di latenza figa Ma se ne stanno No Non so Non mi cade in testa la casa e muo Guarda la patata 50 40 60 100 C'è C'è Porco dio Ma qua non c'è più mezza casa Ma che è? Come demolire la casa Eh Entrano con tutto cararmato questi Porco demoglio quanta gente Stacco un nemico Distangiamo la postazione Stiamo perdendo l'obiettivo Baker Eccoli che stragono su Eccoli gli stragono su Eccoli ecco le ecco c'è il cararmato proprio sul limite di A Dove c'è la bandiera? Ah, sulla mappa! Non lo so, non lo so, non lo so Miiinghia Ha abstracciato, ha abstracciato Porca noia Ma che cazzo è successo qua? E' esploso il muro L'hanno fatto esplodere, l'hanno fatto esplodere Bono, bono La bono box Ma mi sta tutti su A facciamo prima Hai mostro, venne su A Ma ti ciappa un colpo questo Se lo fossero in unico, vabbè Se lo metto qua, se sei la dove ci sei tu, no? Si poteva mettere che ne so Tavolino o qualcosa, io mettevo il bipodi appoggiato la E sparavo Vedi se in casa c'è un tavolino Così lo piazziamo C'è Gioca la poker Arrivare i nemici e fanno Ma che strano non fa questi? Li ammazziamo? No, giochiamo a poker con loro Diventa battle poker Poker field Sono morto magari Sono morto così, dal nulla Sono morto, va bene Ma come ti ha cascatato la cosa in testa No, c'è il calmato qua sotto C'è il calmato qua sotto C'è un altro calmato qua sotto C'è un altro calmato qua sotto C'è sempre il calmato qua sotto C'è rompe il cazzo appunto Non mi ha dimonio Facciamo gli appezi Certo Ma sai che sei morto? Ora taggono tutti su Ora taggono tutti su Guarda il cannone, guarda il cannone C'è il cannone di fianco tu c'è il carbone di campo ce ne sono almeno 10 sotto eh allora sono morto che cazzo gli è massimo che mani da su ecco lì madonna santissima madonna sono caduto da sotto polca troia no non moro come misogiori non menti o tacci su orca troia figa sono pure caduto per sbaglio ora vado in un'altra stanza caduto giù davanti orca troia hai provato la cortella quello è un'ombra liscia eh appunto vabbè uno l'ho ammazzato penso mi ricordo mi sa di sì che uno l'ho ammazzato mentre scendevo giù mica mi son girato mi son trovato un plotone davanti che cazzo non fanno qua eh ma la pigiano mica sono un po' qua davanti stanno c'è c'è praticamente sono qua davanti poi non ti c'è io prova a mettermi su in cima però comunque so che ci sono i cecchini dell'altra parte che te sparano ma guarda non riesco manco a salir su c'è c'è gente lì c'è uno che sta c'è uno che sta eh ma eh appunto qua hanno buttato esso hanno buttato il il cannone orbitale mamma mia cannone orbitale hanno buttato l'attacco l'attiglieria lì l'attacco settore cannone orbitale spari bene soldati io sparo no che me ne è andata a cazzo spara 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 giulio spara spara giulio spara spara giulio un altro ne è lanciato ma ce l'hanno infinito e chi cazzo avere più uno si ma han preso ma quanti ne hanno hanno buttato i cento pols ma che è no spia nessuno si la spara ma quello questo con due volti di type 100 mi ha shottato ma quello non è morto abbiamo eliminato metà si oh guarda questo non sta guarda questo non sta col cavo armato oh guarda ma dicine davanti non me fa spaurare ma perché 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 mi pigliano a me oh porca gloria non vedo non vedo niente davanti eh ora non vedo un cazzo lo stesso ma io che moro ma come cazzo guarda che mi sa che arrivano da qua qua eh via calato ti sei messa a 90 praticamente non so vedo dopo ah sono sono su sono proprio sulla bandiera sono sono morto eh vabbè è un colpo ma perché non funzionano nelle granate che buffo ma anche a me funzionano ho preso uno proprio sulla bandiera ma ha preso a 40 la prossima volta tira i dildi vedi come scappano tira il numero che ho scritto sopra carmerina vedi come scappi beh hai scontrato la sessione proprio la ceppanale quanti punti ho fatto va che bella mappa va che bella mappa la mappa va che bella